Si raffredda prima l'acqua calda o prima l'acqua fredda? Vuoi sapere che cosa è lo spin? Vuoi sapere perché è il cielo azzurro? Vuoi sapere come è nata la meccanica quantistica? Vuoi sapere come utilizziamo la meccanica quantistica nel quotidiano? Vuoi conoscere nuove cose scientifiche in maniera semplice e senza formule? Sei capitato sul canale giusto, io sono una studentessa di fisica e nel mio canale troverai tantissimi video di divulgazione scientifica. Vuoi sapere come ho fatto a intrappolare l'acqua? Non ti resta che scriverti per scoprirlo.